mi associo mi associo noi vogliamo tutti un bene dell'animo sia santuzza sia d'achille ben ritrovato professore grazie grazie per la riconosciuta la voce allora sono le 15 come dice alfredo possiamo iniziare allora oggi iniziamo il corso del professor buon pomeriggio tutti innanzitutto iniziamo il corso del professor somozza che secondo me secondo quello che il programma che ho potuto leggere ci porciderà ci aggiornerà su molte molte cose siamo molto contenti di avere il professor somozza con noi e un abbraccio virtuale non possiamo darcelo di persona ma virtuale si può grazie alfredo a te la parola prego prego grazie a voi a chi l'ha attivato la preferenza sul mio schermo no 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 era per per vedermi soltanto adesso benissimo allora anzitutto grazie a voi grazie anzitutto a santuzza d'achille che non hanno mollato e anzi sono sono un esempio perché hanno sono riusciti a portare avanti l'attività di questa università come se nulla fosse anche se non siamo lì nel teatro di arcore e quest'anno il corso non è storico anche se come sapete a me piace sempre su ogni tema storicizzarlo cioè raccontare un po almeno i passaggi precedenti rispetto alle cose che di cui parliamo ho pensato quest'anno un corso di aggiornamenti su una serie di temi molto importanti alcuni di questi temi non erano molto trattati prima la pandemia ma durante la pandemia sono stati diciamo messi in risalto oggi parliamo di economia quindi in che momento ci trovavamo fino al 2019 e in che momento ci troviamo poi parleremo di ambiente che l'altro grande tema che va un po insieme alla pandemia come come emergenza con la differenza che la pandemia è una questione di tempo che venga domesticata e si può risolvere con un vaccino mentre mentre il problema ambientale il cambiamento climatici come sappiamo è molto più complesso e non è non può essere risolto con con i vaccini poi parleremo della cultura la cultura di massa la cultura i tempi di internet la cultura come sta cambiando adesso con questo anno di lockdown che stiamo vivendo più o meno in tutto il mondo poi parleremo della politica ci sono stati grandi novità in questi ultimi anni e alcune anche freschissime e anche lì c'è un'evoluzione ci sono dei grandi cambiamenti nel mondo della politica non non partitica quindi non parleremo di di partiti ma soprattutto di di come come oggi come diventata oggi la politica che poi un po anche diverso in in tutto il mondo abbiamo dei paesi come la birmania nei quali dieci giorni fa c'è stato un colpo di stato coi carri armati quindi eccoci un po di tutto in questo mondo e infine parleremo di informazione informazione che ci accompagna più o meno da quando ci siamo e che negli ultimi anni ha acquisito delle caratteristiche particolari soprattutto legate alle possibilità infinite che abbiamo oggi come ad esempio questa che stiamo soffrendo in questo momento per far finta di essere in un posto in un posto tutti assieme anche se ciascuno di noi si trova si trova a casa quindi come dicevo parliamo di economia vediamo se la lezione che mi ha fatto chi le funziona cominciamo a condividere qualche immagine che ovviamente che ovviamente qua non trovo si vedete si si grazie dei minatori bravissimi allora vediamo se invece riesco a fare anche un'altra cosa che quel quadrettino esatto il quadrettino a chi leghesso non me lo ricordo che era che era che era ecco capito dove era sì che me lo stava coprendo eccolo la il quadrettino abbiamo visto anche nel quadrettino perfetto allora però quello che non mi prende invece è un'altra cosa vediamo se me la prende adesso perché devo interrompere e devo provare di nuovo allora torniamo qua diciamo di condividere non mi non mi legge un programma questo mi crea qualche problema mi legge l'esplora risorse ma non mi legge il lettore di fotografie quindi vabbè quindi me lo guardo io e ve lo racconto non c'è problema allora noi diciamo il ventunesimo secolo stiamo vivendo l'onda lunga di fenomeni per quello che riguarda l'economia che possiamo temporaneamente collocare tra la fine del settecento i primi anni dell'ottocento e cioè quel grandissimo cambiamento nella storia dell'umanità che è stata la cosiddetta rivoluzione industriale cioè la nascita dell'industria non tanto dell'industria come trasformazione di qualcosa ma diciamo la capacità di poter trasformare in larga scala delle cose quindi di arrivare a una produzione in serie rispetto a quello che è stato l'industria nel passato che era semplicemente quello che oggi chiamiamo artigianato c'è la confezione di cose una diversa dall'altra fatte manualmente utilizzando degli attrezzi ma sempre una diversa dall'altra e la rivoluzione industriale è stata possibile da un insieme di fattori anzitutto la scoperta della capacità del vapore generato con il riscaldamento dell'acqua attraverso il carbone questa è una perché poi c'è una seconda che ci tocca anche più da vicini la capacità appunto del vapore di muovere dei macchinari la seconda diciamo scoperta che in realtà questa non è tanto una scoperta ma è molto più antica è l'utilizzo dell'acqua per muovere degli ingranaggi che a loro volta permettono di fare anche lì delle operazioni infatti nella rivoluzione industriale che nasce storicamente in Gran Bretagna associata al carbone e sarà una caratteristica della rivoluzione industriale non soltanto in Gran Bretagna ma anche quando poco dopo comincerà a verificarsi lo stesso processo in Germania, in Belgio, nel nord della Francia il grande motore sarà il carbone mentre invece in altre parti d'Europa come qui in Lombardia o come in Piemonte non sarà il carbone in prima battuta ma sarà l'acqua, cioè sarà lo sfruttamento dell'energia idroelettrica che permetterà appunto di cominciare a muovere dei macchinari e quali sono i primi macchinari delle rivoluzioni industriali? Qual è il primo settore che viene rivoluzionato dalla rivoluzione industriale? è il tessile, il tessile diventerà il motore trainante della rivoluzione industriale il telaio meccanico rispetto ai telai precedenti che erano quelli manuali quelli che possiamo vedere ancora in uso in tanti paesi del mondo ma anche in Italia per chi lo continua a fare in modo artigianale il telaio meccanico permetterà di creare e di fabbricare tonnellate di panni che poi saranno la base dei vestiti e verranno sportati in tutto il mondo perché l'Europa avrà il monopolio praticamente per quasi un secolo di questo tipo di lavorazione dicevo carvone e acciaio, acciaio per fare i macchinari che nascono, che permettono questo sviluppo c'è una mappa che sto vedendo io ma purtroppo voi non potete vedere sulla coincidenza delle città industriali della Gran Bretagna le prime città industriali con i giacimenti carboniferi ad esempio Liverpool e Manchester che sono due dei centri dove avviene la rivoluzione industriale si trovano sopra dei grandi vaccini carboniferi ma anche Cardiff nel Gales, Glasgow in Scozia Newcastle nel sud dell'Inghilterra e poi attorno ovviamente a Londra e quindi ecco la macchina che comincia a mettersi in moto diventa globale per forze di cose quindi noi quando parliamo di globalizzazione oggi stiamo parlando di qualcosa che è piuttosto antico perché la globalizzazione come fenomeno di circolazione di persone, di merci su larga scala quindi non limitata alla regione nella quale uno viveva possiamo adattarla attorno al XIV secolo quando i portoghesi cominciano a circonnavigare l'Africa cioè a fare il giro dell'Africa per arrivare in Oriente e cominciano a stabilire delle rotte di scambio con l'Oriente poi ci sarà la grande accelerazione alla fine del XV secolo 1492 con Cristofalo Colombo all'arrivo nel continente americano e avremo proprio l'Oceano Atlantico che molti storici chiamano il Nuovo Mediterraneo perché il Mediterraneo era stato il centro dell'economia mondiale fino a quell'epoca cioè il Nuovo Mediterraneo perché l'Atlantico diventerà il centro cioè l'Oceano attraverso il quale nasce il cosiddetto triangolo della globalizzazione dell'epoca un triangolo come triangoli con tre vertici un vertice è l'Europa, del Portogallo, la Spagna e poi della Gran Bretagna e della Francia l'altro vertice è il continente americano e il terzo vertice sarà il continente africano che in questa storia ha un ruolo diciamo molto brutto che è quello di fornitore di manodopera attraverso la schiavitù, attraverso la tratta negriera che è un fenomeno che interesserà più di 15 milioni di africani che verranno deportati nel continente americano cioè nei Caraibi, soprattutto nei Caraibi in Brasile e nel sud degli Stati Uniti per lavorare nelle piantagioni quindi un continente americano che mette la terra un continente africano che mette la manodopera e le potenze europee che sono quelle che diciamo garantiscono la logistica, le comunicazioni, la sicurezza di questo triangolo e ne tragano ovviamente il maggiore beneficio perché quello che accadrà all'interno di questo triangolo sarà appunto lo scambio di merci di diversa tipologia ma anche di prodotti manufatti quindi le armi ad esempio che all'epoca si fava in Europa serviranno per comprare o per predare gli schiavi in Africa che poi verranno portati in America dove lavoreranno nelle piantagioni per produrre quei prodotti che sono i primi prodotti globali che sono prodotti non di prima necessità e sono fondamentalmente lo zucchero e il rum il rum diventa quasi una moneta che oggi è diciamo un super alcolico come tanti altri super alcolici ma è stato a lungo una moneta di scambio molto importante e con cosa si elabora il rum? Con lo zucchero che è quello che appunto viene diciamo ricavato dalle piantagioni con gli schiavi nel sud degli Stati Uniti invece saranno gli schiavi serviranno per la produzione del cotone le grandi piantagioni di cotone che quel cotone non viene utilizzato in loco quel cotone verrà asportato o verso nord degli Stati Uniti dove c'erano le industrie o verso la Gran Bretagna perché la Gran Bretagna diventa un grandissimo acquirente di materie prime da trasformare e da reesportare infatti ad esempio quando l'India diventerà un vice reame inglese britannico l'India era un paese in realtà non era un paese prima dell'inglese diciamo era una zona del pianeta con una lunghissima tradizione tessile tutti noi conosciamo i tessuti indiani loro utilizzavano ad esempio anche la seta che era originaria della Cina ma comunque erano in grado di stampare i tessuti e di produrre grandi quantità ovviamente con lavoro manuale con i telai manuali quando la Gran Bretagna diventerà la potenza di riferimento dell'India una delle prime cose che faranno sarà quella di distruggere quell'industria tessile locale per eliminare la concorrenza cioè per poter esportare l'oro dalla Gran Bretagna i tessuti che si sarebbero usati in India quindi l'India dall'India partiva il cottone che arrivava in Gran Bretagna veniva trasformato in tessuto nei telai meccanici delle città inglesi e poi veniva riesportato in India questo è un meccanismo che si ripeterà con molte delle grandi colonie c'è quello di questo passaggio di importazione di materia prima ed esportazione di prodotti manufatti che ovviamente hanno un valore molto ma molto più importante e molto più alto rispetto alla materia prima stessa importante per questa triangolazione sono anche i progressi nelle navigazioni nelle comunicazioni dell'epoca c'è le navi che sempre più velocemente le navi a vapore che più velocemente collegheranno il capitale industriale con il resto del mondo poi arriveranno altri mezzi più rivoluzionari a cora nel campo delle comunicazioni che ad esempio è il telegrafo il telegrafo rivoluzionerà totalmente le comunicazioni mondiali perché è il primo strumento di comunicazione in tempo reale anche se il telegrafo non trasmette la voce umana come il telefono il telegrafo trasmette degli impulsi elettrici che vengono attraverso il codice Morse vengono codificati e decodificati in tempo reale e le linee del telegrafo verranno posate lungo le ferrovie che è l'altra grandissima innovazione tecnologica della fine dell'Ottocento cioè il trasporto che fino a quel momento si doveva fare esclusivamente col cavallo, col bue, coi carri attraverso la ferrovia sia per i passeggeri sia per le merci farà un salto di qualità impressionante molti paesi si articoleranno e si definiranno attraverso le ferrovie stesse cioè le ferrovie hanno un ruolo importantissimo nella storia dell'India cioè se l'India è un paese molti dicono è stato grazie al sistema ferroviario inglese che lo ha reso un paese cioè lo ha reso un territorio tutto collegato ma anche negli Stati Uniti posso dire lo stesso tutti avete visto sicuramente i film western quando cominciano a costruire quel treno con la mano d'opera semischiava cinese verso ovest cioè il collegamento tra l'ovest e l'est degli Stati Uniti si fa con la ferrovia e la ferrovia dove arrivava incorporava i territori cioè spesso le ferrovie entravano nei territori indigeni ed era la prima volta che entrava il mondo bianco in quei territori ma anche la storia dell'Argentina è lo stesso cioè l'Argentina diventerà un paese vero grazie alla rete ferroviaria fatta dall'Inghilterra per portare le merci dalle province dell'interno verso la capitale quindi ecco questi sono cambiamenti epocali come si direbbe oggi infatti l'Ottocento è stato un secolo meraviglioso dal punto di vista dell'innovazione tecnologica forse ancora più importante del nostro fino ad ora cioè noi oggi stiamo vivendo da tutta una serie di evoluzioni di cose che sono state pensate o create in grosso modo alla fine della seconda metà dell'Ottocento nei primi anni del Novecento il motore a scoppio che è la base della motorizzazione anche quella è un'invenzione che risale ai primi anni del Novecento così come la capacità di volare i primi aeroplani cioè tutto è accaduto in quell'arco di 50 anni tra il 1870 e il 1920 tutto il resto invece è quello che stiamo portando avanti forse certamente le cose che non si conoscevano e che fanno parte della rivoluzione attuale che è l'informatica è molto più recente ma ricordiamoci sempre che il primo computer che possiamo chiamare così era stato creato per decifrare i codici dei nazisti durante la seconda guerra mondiale quindi negli anni nei primi anni Quaranta infatti noi abbiamo molte cose che ancora oggi diciamo funzionano e sono alla base della nostra vita che in realtà hanno una storia ormai secolare pensate alla motorizzazione se noi consideriamo che le macchine ibride o le macchine elettriche sono una grandissima minoranza i motori di tutte le altre macchine si basano sulle scoperte fatte all'inizio del Novecento è anche il combustibile è anche il petrolio che sembra ormai una materia prima superata è quello che continua a muovere tuttora il grande parco automotore del mondo e la grande diciamo è buona parte anche della produzione di energia perché noi parliamo molto energia rinnovabile abbiamo degli obiettivi di raggiungere su questo ma il grosso dell'energia prodotta nel mondo è fatto ancora in base al petrolio e soprattutto al carbone dicevamo rivoluzione industriale questo questo grande diciamo triangolo che man mano si allarga che prima troviamo nell'oceano atlantico dopo la conquista del continente americano ma che poi si allungherà tutto il mondo poi entrerà in Vallolasia parlavo di India ma poi anche l'Africa più avanti ovviamente che a ogni giro materie prime che poi vengono trasformate e vengono rispondate a ogni giro creano ricchezza ricchezza monetaria e sarà appunto un processo che viene accompagnato dall'aumento dell'importanza delle banche ci nasceranno le banche le banche centrali come la banca d'Inghilterra la banca d'Italia eccetera c'è lì gli istituti che cominciano a regolare la moneta fondamentalmente ma che regolano anche un settore settore bancario che troviamo già tra l'altro tra i più antichi lo troviamo in Italia in Toscana la Toscana forse è il luogo di nascita del concetto di banca moderna il monte di Paschi di Siena è probabilmente la banca più antica al mondo ancora in vita non sappiamo per quanto ma ancora presente le banche cominciano ad avere un'importanza maggiore in quanto istituti di credito ci sono le istituzioni dove il risparmiatore lascia consegne sui risparmi e questi risparmi vengono utilizzati per gli investimenti necessari per tenere in vita quel circuito così come nascerà un'altra cosa che anche qui in realtà non nasce nell'ottocento è più antica che la borsa la borsa dei valori nei quali il risparmiatore investono sulla capacità di una compagnia di fare guadagni e se questa compagnia si dimostra all'altezza incassano attraverso i dividendi o attraverso l'aumento dell'azione una diciamo una plus valenza e anche lì le borse nascono con le cosiddette compagnie delle indie le compagnie delle indie erano società private quotate in borsa c'era quella dell'indie ad esempio in Olanda c'era anche in Inghilterra che hanno portato avanti alcuni processi coloniali esempio gli Stati Uniti non vengono colonizzati la Gran Bretagna quando arrivano i padri pellegrini saranno queste compagnie private che faranno porteranno avanti la colonizzazione a un certo punto subentrerà la corona lo stesso vale per l'Olanda che governa i suoi territori in Oriente attraverso queste compagnie ma anche la Gran Bretagna ad esempio la compagnia britannica che operava in Cina è quella che farà guerra alla Cina cioè guerra a vere prove perché queste compagnie avevano anche i propri eserciti oltre a battere moneta ad avere una propria moneta una propria bandiera batteranno ad esempio sconfiggeranno la Cina obbligandola ad acquistare l'opio che loro sportavano dell'India voi pensate il paradosso quando uno dice opio pensa alla Cina in realtà in Cina l'opio non c'era non c'era il papavero da opio c'era in India gli inglesi l'avevano scoperto in India dall'India lo hanno cominciato ad asportare in Cina il governo cinese l'imperatore cinese vieta l'importazione dell'opio perché capisce i problemi che si sarebbero creati con quella droga l'inglese anzi le compagnie inglesi fanno guerra contro la Cina per obbligarlo a permettere questo commercio ci saranno due guerre la cosiddetta guerra dell'opio vinte dalle compagnie della Gran Bretagna che lasceranno come trofeo Hong Kong Hong Kong non è altro che la base delle compagnie britanniche in territorio cinese per poter importare l'opio dalla Cina che diventerà una piaga una piaga nella società cinese un problema serissimo che poi verrà asportato anche altrove e ricordiamoci sempre che dall'opio derivano l'eroina e la morfina quindi una sostanza e anche gli opiace che sono questi farmaci antidolorifici che dovrebbe usare soltanto praticamente chi si trova in una situazione di malattia terminale ma che invece negli Stati Uniti sono diventati una vera piaga sociale con milioni di persone che sono dipendenti da questi farmaci opiacei con grandissimi con gravissime conseguenze sulla propria salute allora la capacità anche di creare un'economia globale è stata anche quella di conservare gli alimenti il corned beef la carne in latta che durante la guerra in Italia forse l'unica cosa che aveva che portavano gli agliati che sono stati portati dagli statunitensi prima ancora è stato inventato dagli inglesi che dovevano rifornire le loro truppe in tutto il mondo quando l'impero vittoriano all'epoca della regina vittoria copriva praticamente l'intero mondo e dovevano garantire una razione di proteine l'invenzione della carne in latta è stata la prima possibilità di trasportare nel tempo e nella distanza proteine animale fresca ovviamente non c'era ancora la refrigerazione quindi è stato l'unico modo e anche questo è stato rivoluzionario perché ha permesso ha permesso appunto anche di avere eserciti globali cioè eserciti che potevano essere a distanza di 10.000 km dalla madre patria ma che potevano essere riforniti da alimenti da vestiti e poi soprattutto da armi le armi l'industria delle armi ha accompagnato la rivoluzione industriale le armi sono prodotto dell'industria anche se ovviamente le armi non nascono nell'ottocento ma prima erano come tutte le altre cose artigianali le spade che si facevano a mano i fucili che si utilizzavano eccetera a un certo punto con la rivoluzione industriale le armi diventeranno si potranno fare in serie e ogni volta avranno più potere soprattutto sarà il mitragliatore il mitragliatore di campagna quello dove c'era l'omino seduto dietro che farà la grandissima differenza perché una cosa del genere non si era mai visto e sarà l'arma diciamo decisiva per il mantenimento così a lungo dell'impero britannico essere praticamente il paese monopolista che aveva quel tipo di armamenti che non venivano venduti ad altri quindi erano armamenti in possesso di pochissimi paesi delle ferrovie abbiamo parlato questo fenomeno di diciamo costruzione di un'economia globale ha avuto bisogno di gente di braccia fondamentalmente come tutti i fenomeni economici per quanto ne dicano alla base di qualsiasi fenomeno economico c'è qualcuno che lavora c'è qualcuno che produce c'è qualcuno che lavora la terra che semina che raccoglie o che fa assistenza diciamo che in tempi dall'inizio della prima globalizzazione cioè dal cinquecento in poi per ben tre secoli quella mano d'opera gratis praticamente per coprire questo fabbisogno di maggiore produzione perché si produceva su scala mondiale è stato fornito dalla schiavitù schiavitù che non era soltanto quella africana ma che nel caso del continente americano è stata stesa anche agli indigeni cioè tutto il settore minerario americano cioè tutte le miniere di argento di oro che sono state alla base della grandissima accumulazione di capitali europei che portarono alla rivoluzione industriale cioè quell'accumulo tra il cinquecento e l'ottocento di capitale che all'epoca voleva dire argento e oro è stato estratto dalla terra dagli indiani delle andi e dagli indiani centroamericane mentre invece avevamo anche gli schiavi che come dicevamo erano quelli che lavoravano le piantagioni che producevano i prodotti più cari piuttosto che il cotone per i vestiti quindi per quasi tre secoli quella manodopera è stata tra virgola permettetemi il termine gratis finita la schiavitù e la schiavitù finirà tra l'inizio dell'ottocento e metà ottocento grosso modo anche se qualche paese come gli Stati Uniti o il Brasile è andato avanti per un po' di tempo la schiavitù finisce più o meno nella prima metà dell'ottocento si crea un problema cioè che quella macchina che si era messo in moto e che man mano diventava più potente e più importante aveva bisogno di mano d'opera e quindi arriviamo ai grandissimi movimenti migratori le grandi masse di milioni decine di milioni di europei fondamentalmente perché guardate bene che se voi prendete le statistiche storiche dei fenomeni migratori non c'è nessun continente al mondo ma che nemmeno sia vicino ma molto ma sono tutti molto lontani dai numeri dell'emigrazione europea e se vogliamo guardare fare un focus sui paesi sui singoli paesi i primi due paesi al mondo nel rapporto tra immigrati e popolazione sono al primo posto l'Irlanda soprattutto legato a una grande tragedia nell'ottocento la carestia che per tre anni eliminò non permise la coltivazione delle patate che marcivano e quindi la fuga di centinaia di miliardi di irlandesi verso il continente americano perché si moriva di fame infatti sono morti di fame più di centomila persone all'epoca e il secondo paese è l'Italia l'Italia ancora prima di essere Italia quindi ancora prima del 1863 e l'Italia post unitaria a ondate diverse perché dall'Italia nel primi diciamo 50 anni cioè tra il 1860 al 1910 saranno soprattutto le regioni del nord a vedere milioni di emigrati il Veneto il Friuli il Piemonte la Liguria e in buona parte anche la Lombardia per poi invece dal 1920 in avanti avere il fenomeno che si sposta verso sud quindi la Sicilia la Calabria la Sardegna anche se il nord resta nei numeri totali in assoluto la regione d'Italia c'è la macro regione italiana che ha prodotto più migrazione questo fenomeno ovviamente non ricordava solo l'Italia è ricordato la Spagna il Portogallo la Grecia ma anche i paesi del nord Europa pochi sanno che la maggiore componente migratoria degli Stati Uniti siano stati i tedeschi nell'Ottocento e che intere zone degli Stati Uniti siano stati colonizzati dei tedeschi il Texas ad esempio di cui abbiamo conosciuto Bush la famiglia Bush che erano oriunde tedeschi addirittura nel Texas si parlava un tedesco del Texas perché quasi il 70% della popolazione apparteneva a quelle origini migratorie ma anche i paesi scandinavi gli Stati Uniti hanno avuto massicci flussi migratori dall'Olanda dalla Svezia dalla Danimarca quando negli Stati Uniti viene approvata la Costituzione e siamo alla fine del Settecento non viene inserita la lingua ufficiale del paese infatti gli Stati Uniti non hanno una lingua ufficiale perché non c'era una maggioranza di anglofono nella convenzione che approverà quella Costituzione nel senso che all'epoca i maschi i bianchi che potevano votare e partecipare al processo della Costituzione erano diciamo erano maggioranza tutte e quattro quelle altre nazionalità non anglofone cioè più tedeschi svedesi olandesi eccetera rispetto a altri poi come sappiamo successivamente negli Stati Uniti c'è stato grandissimi flussi migratori dal Messico al Centro America e oggi la seconda lingua degli Stati Uniti non è nel tedesco o nolandese ma è lo spagnolo ecco venendo un po' avanti nel tempo e quello che diciamo la fase successiva in questo racconto della storia dell'economia l'abbiamo con la nascita della società di consumi moderna e siamo già nel secondo dopoguerra quando si confrontano due modelli nel mondo i modelli della guerra fredda cioè il capitalismo statunitense e il comunismo di matrice sovietica che non erano soltanto due impostazioni ideologiche radicalmente diverse cioè l'economia di mercato la proprietà privata e dall'altro lato la proprietà collettiva e la mancanza appunto di appunto la proprietà privata e l'economia pianificata quindi la mancanza di un mercato quindi non soltanto radicalmente diverse modalità democratica e il partito unico non solamente differenze ideologiche ma di modello di consumo e su questo a lungo si sono fronteggiati i due paesi negli Stati Uniti nasce lo slogan dell'American way of life cioè il modo di vita americano che all'epoca è associato fondamentalmente al consumo cioè negli Stati Uniti degli anni 60 le casalinghe hanno il frigorifero hanno la lavatrice hanno la lavastoviglie c'è il televisore in casa tutte le famiglie hanno una macchina cioè tutte cose che in Europa all'epoca diciamocelo chiaramente e non era per tutti negli Stati Uniti forse nemmeno era per tutti però la propaganda attorno a questo ovviamente lo faceva rendere universale in questi ultimi mesi su Netflix e su questi tv in streaming ci sono tantissime serie ambientate in quei periodi negli Stati Uniti e si vede chiaramente come è vero negli Stati Uniti c'era un livello di accesso all'innovazione tecnologica in termini diciamo a portata di mano di tutti i telefoni che era molto diffusa poi era un paese con grandissimi sacchi di povertà lo continua ad essere tuttora ma sicuramente lo era molto di più all'epoca ricordiamo che gli Stati Uniti con la grande depressione hanno avuto milioni e milioni di persone rimaste per strada impoverite dall'altro lato c'era appunto il blocco comunista nel quale non si poteva raccontare lo stesso anche se anche lì c'era una propaganda che faceva vedere che anche loro avevano le stesse elettrodomestici magari un po' meno colorati ma c'erano ma che invece bastava la sua propaganda sull'innovazione scientifica tecnologica quindi la grande corsa ad esempio la corsa spaziale chi lancia per primo il cagnolino il primo essere vivente la canna laica nell'atmosfera chi lancia il primo uomo Yuri Gagarin il primo astronauta che esce atmosfera che arriva per prima la luna agli Stati Uniti quindi la dimostrazione della superiorità del modello attraverso o il livello di consumi o il livello raggiunto con la scienza e la tecnica o il livello nella capacità di costruire armi di distribuzione di massa cioè la corsa al nucleare fa parte anche di questo chi è più potente chi è in grado di fabbricare la bomba più potente noi siamo arrivati negli anni 90 al paradosso che la capacità dell'Unione Sovietica degli Stati Uniti di distruggere il mondo cioè avrebbero potuto distruggere 6, 7, 8 volte il mondo con l'armamento disponibile quindi ridicolo perché ovviamente più di una volta non si può distruggere qualcosa ma ecco la corsa senza freni portò a quello poi non è che sia finito perché poi in realtà quelle armi qualcosa si è smantelato ma in buona parte ancora sono lì ecco questa diciamo questo questo confronto sui modelli di consumo finirà in qualche modo simbolicamente nel 1989 con la caduta del muro di Berlino cioè con la fine graduale delle democrazie socialiste dell'est europeo prima la Germania e poi man mano fino al 91 l'Unione Sovietica che cessa di assistere e a un certo momento ci troveremo sempre sulla carta tutti in un mondo uguale c'è un mondo nel quale non ci sono più ideologie contrapposte ma soprattutto un mondo nel quale ha vinto un modello che è il modello del mercato cioè il modello che propugnava sia la Gran Bretagna prima che gli Stati Uniti dopo dicevo sulla carta perché da lì a pochi anni scopriremo che la più grande potenza economica che tra tre anni supererà gli Stati Uniti per prodotto interno lordo la Cina che è un paese che pur restando un paese comunista con partito unico tra l'altro con una grandissima repressione della dissidenza e controllo di tutti è un paese che invece ha fatto un'apertura di mercato impressionante tra l'altro dimostrando che non è diciamo sine qua non la democrazia rispetto al mercato cioè che può esserci un mercato anche se non c'è democrazia in qualche modo la Cina è andato intaccare molte teorie che circolavano cioè il fatto che l'economia di mercato avesse bisogno per forza della democrazia per prosperare la Cina ha dimostrato che così non è perché loro sono riusciti a creare un'economia di mercato con tutte le caratteristiche del mercato cinese per carità dove lo Stato continua ad essere il primo investitore ma dove è possibile arricchirsi e fare anche tante cose senza nemmeno discutere del tema democrazia ecco dal 1989 in poi i cambiamenti sono stati molto veloci anzitutto sono venute a meno sono cadute molte previsioni che si erano fatte ad esempio c'è stato un filosofo un analista statunitense che si chiama Fukuyama che aveva teorizzato la fine della storia cioè lui diceva con la caduta dell'Unione Sovietica e la vittoria dell'economia e mercato la storia è finita nel senso che la storia con l'S maiuscolo ovviamente la storia è finita perché appunto non c'è più questa contrapposizione che è quello che è stata sempre la motora della storia uno ha vinto quindi il futuro sarà solo questo ecco questo tipo di previsione della fine della storia si sono rivelate totalmente campati per aria lo stesso Fukuyama lo ha lo ha lo ha messo recentemente perché non è vero così nel senso che il mondo man mano si è andato articolando in modi delle volte inaspettati che sono un mix di cose che si pensava che si pensavano come prima ma che non sono esattamente lineari citavo il caso della Cina che ovviamente è quello più evidente c'è l'emergere della potenza cinese grazie all'apertura di mercato ma senza mettere in discussione il sistema politico possiamo parlare della diciamo la rinascita della Russia dopo essere stata Unione Sovietica aver perso il controllo sui paesi dell'este e aver avuto un piccolo ridimensionamento territoriale la Russia post comunista che è governata più o meno da vent'anni della stessa persona nella quale formalmente c'è una democrazia ma sappiamo tutti che non è così dove muoiono avvelenati spesso gli oppositori dove muoiono molto spesso i giornalisti ed è il secondo penso al mondo per la quantità di giornalisti uccisi in questi anni dove la Costituzione come qualche mese fa viene cambiata costantemente per permettere a quella persona che si chiama Vladimir Putin di continuare a esercitare il potere questa Russia post comunista che in mano un'oligarchia corrotta perché non c'è il partito comunista ma c'è un gruppo di potere che in qualche modo si è appropriato di quelli che erano i beni di Stato nel periodo sovietico per gestirli in modo personale ecco questo gruppo di potere sta riprendendo man mano i confini dell'unione sovietica c'è stata la vicenda della Crimea che è stata annessa la vicenda dell'Ucraina dove sono entrati per proteggere la zona di confine con la minoranza rossa ma poi soprattutto la loro proiezione internazionale c'è la loro partecipazione alla guerra in Siria che è stata decisiva e loro in Siria hanno le loro basi navali fondamentalmente e più recentemente la loro partecipazione insieme alla Turchia di Erdogan un altro campione di democrazia della fine della conflittualità in Libia cioè attualmente in Libia si sta andando a un accordo tra le varie fazioni non perché ci sia non perché siano migliorati i protagonisti della vicenda livica ma perché la Russia e la Turchia sono entrati nel gioco ognuna si è garantita una zona di controllo si sono messi d'accordo su una spartizione del paese e a questo punto la Libia sta trovando la pace perché ha trovato la pace le potenze in riferimento quindi ecco sono diverse le cose che sono cambiate rispetto alle previsioni ma quello che non è cambiato è quello che è continuato ad avere una vita tutta sua è il mercato globale abbiamo parlato del mercato globale che inizia con i portoghesi che poi si espanderà con gli spagnoli che poi verrà utilizzato con la regoluzione industriale che va dalla mano del colonialismo quindi interregoluzione industriale e colonialismo e che poi diventerà anche si dividerà in due blocchi all'epoca della guerra fredda e che dopo il 1190 torna di nuovo ad essere un solo mondo dal punto di vista del mercato anche se non appunto dal punto di vista della politica come stavo dicendo prima ecco e quel mercato che è quello di oggi venendo i nostri giorni è un mercato che è stato lasciato da solo c'è un mercato nel quale c'è stata una grande rivoluzione tecnologica che è stata la scoperta scoperta tra la scoperta e l'uso nostro è passato un po' di tempo di internet cioè internet nasce come rete di comunicazione interna al pentagono cioè perché gli Stati Uniti possano comunicare con i loro soldati in giro per il mondo poi diventerà aperta e quindi poi diventerà la rete che conosciamo noi quindi la rivoluzione di internet che è quella di collegare in tempo reale per la prima volta il mondo come mai prima era stato collegato soprattutto il telegrafo il telex i telefoni gli aerei ecco internet è lo strumento che supera tutto ciò che ho detto e soprattutto quello che ci ha permesso di sopravvivere quest'anno cioè se questa pandemia fosse capitata 30 anni fa oggi avremo praticamente la gente per strada raccogliendo l'erba per mangiare qualcosa alla sera perché il mondo continua a funzionare malgrado il fatto che siamo tutti chiusi grazie all'istrumento che si chiama internet che ha permesso di continuare a fare scuola per i ragazzi che ha permesso di fare gli acquisti che te li portino a casa che ha permesso di continuare ad avere contatto col tuo medico che ha permesso gli scienziati di essere in collegamento a tutto il mondo per quello che riguarda lo sviluppo di vaccini che ha permesso alle banche di continuare a funzionare eccetera eccetera senza internet con questa pandemia sarebbe stato un disastro paragonabile anzi peggio ancora della cosiddetta spagnola che è stata l'altra grande pandemia della storia che è stata molto più circoscritta geograficamente rispetto a quello che è oggi la pandemia di covid-19 dicevo questo grandissimo strumento che è quello che stiamo usando noi in questo momento rivoluziona definitivamente il mercato perché offre delle possibilità che prima non esistevano e guardate che non sono soltanto possibilità per i grandi soggetti di cui parleremo ovviamente ma possibilità per tutti perché internet offre la possibilità di protagonismo di visibilità di sviluppo del proprio business di formazione di partecipazione a chiunque poi c'è chi questo lo sfrutta commercialmente chi su questo ci fa i miliardi chi su questo si fa le carriere politiche perché è anche uno strumento per la comunicazione politica ma sostanzialmente è quello che ci permette a tutti anche noi che non dobbiamo né comprare né vendere nulla in questo momento di poter di poter stare assieme parlando ma prima ancora di internet o meglio durante internet c'è stato un grande fenomeno legato alla globalizzazione cioè al mercato mondiale lasciato da solo perché lasciato da solo perché è stata così importante la rivoluzione che si è creata dopo la fine della guerra fredda che la politica per molti anni non ha voluto mettere freni né fare dal regolamentatore né mettere corsetti a quello sviluppo economico e quindi abbiamo avuto un primo momento nel quale il fenomeno caratteristico è stata la delocalizzazione cioè siccome il mondo adesso è aperto e io posso spostare i miei capitali dove voglio invece di continuare a produrre i buloni a Brescia dove il costo del lavoro è 100 e dove ho delle normative ambientali molto stringate perché le ha messo l'Unione Europea vado a fare questi buloni in India dove il costo del lavoro invece di 100 è 10 e dove dal punto di vista ambientale nessuno mi dice nulla posso fare quello che voglio ecco la delocalizzazione è questo cioè andare a produrre altrove sfruttando sfruttando normative lavorali ambientali e soprattutto sfruttando il costo della manodopera per riportare nei paesi dal quale sono uscito la merce pronta da vendere uno poteva dire beh diciamo che eticamente ovviamente è molto discutibile questa operazione anche se poi dove queste fabbriche sono state create ha creato lavoro quindi per molti di questi paesi è stato un beneficio molti di questi paesi non avevano l'industria l'hanno avuto grazie alla delocalizzazione e poi sono andati avanti pensate alla Cina era un paese rurale fino all'anno 70 oggi la prima potenza industriale del mondo quindi diciamo eticamente discutibile ma uno potrebbe dire e ma dal punto di vista dei consumatori cioè noi che abbiamo avuto la delocalizzazione io sto parlandovi di una frazione di bimercate dove una volta c'era l'IBM la più grande IBM italiana si faceva ricerca sviluppo poi è stata trasportata in Repubblica Repubblica Ceca e poi è andato avanti fino a che è declinato tutto cioè ok abbiamo perso dei posti di lavoro abbiamo perso una cultura industriale che se ne è andata ma a questo punto se prima quel prodotto che tu mi vendi costava 10 perché tu pagavi 8 la mano d'opera e adesso la mano d'opera la paghi 2 a me me lo farai pagare di meno no e questo è stata la cosa più incredibile cioè che quella diciamo quella ottimizzazione come dicono loro del costo del lavoro non ha mai portato un beneficio al consumatore finale abbiamo continuato a pagare esattamente come prima con gli aumenti normali come prima anche se il gruppo che produceva quella merce non più da noi ma in India in Vienna in Messico eccetera lo produceva a meno di metà del costo e quindi a cosa ha portato questo ha portato anche a dei profitti molto grandi cioè dei margini di profitti come non si sono mai conosciuti prima ad accumuli di capitali molto importanti ma in realtà quelle che hanno accumulato di più non sono nemmeno le imprese che hanno aperto l'impresa in Cina in realtà quelle che alla fine stanno guadagnando di più sono quelle che non producono niente cioè quelle che gestiscono il traffico sulla rete i grandi miliardari di oggi le persone che hanno guadagnato di più con la pandemia sono le persone che non non fabbricano nulla ma che ci permettono ad esempio come in questo momento essere collegati con questo programma che si chiama Gizi piuttosto che con Zoom o piuttosto che con Facebook e tutto sono loro l'economia di materializzata è quella che guadagna di più ecco e questo ha introdotto una serie di variabili e di problematiche che stanno cambiando un po' le cose ma penso che a questo punto sia il momento di fare un intervallo non so cosa dici Santuzza c'è qualcuno? sì sì sono qua sì direi anch'io facciamo i dieci minuti di intervallo abituali come in aula benissimo fra dieci minuti e qua presenti e buon caffè a tutti grazie grazie io chiedo una consulenza a Achille se sei in giro di quelle parti certo vai qua sì si senti Achille allora nella condizione io ho delle immagini aperte con il lettore di foto che però se lo voglio condividere il programma non me lo vede dovrebbe vederlo dovrebbe vederlo proviamo proviamo adesso forse adesso forse adesso sì prima non stava vedendo ma adesso sì a sapere cosa è successo adesso lo vedo ok adesso sì perché all'inizio non mi dava quella finestra si vede che poi è successo qualcosa la cosa che dovresti fare è fare partire prima di fare la condivisione far partire il programma devi averlo pronto perché altrimenti quando no ma era già pronto era già pronto e che non lo leggeva il programma non so perché bisogna essere lì comunque ce l'abbiamo ce l'abbiamo quando riprendiamo ce l'abbiamo se sei pronto in background come si dice lo fai venire lo puoi attivare è già attivo basta fare la condivisione si attiva subito perfetto probabilmente è mancato qualche qualche punto ecco magari non ti posso dire ma dalle volte basta basta un niente perché io stavo provando stamattina ho provato metà della mattinata con suono perché c'erano dei problemi di audio tra i miei computer normali i due computer e la vorstation che manda tutto su youtube e senza suono sì ma delle volte non c'è una logica da seguire capita così infatti prima era aperto ovviamente non mi leggeva questo programma di foto adesso vado a vedere adesso me lo sta leggendo quindi vabbè comunque facciamo l'intervallo che ripartiamo con le immagini scusa solo una cosa in questi casi può essere utile fare spesso si risolve facendo un refresh cioè uscendo un attimo e rientrando ah sì 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 va bene buon intervallo grazie ciao grazie 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 ecco ci siamo sono passate dieci minuti giusti per cui spottualissimi come sempre sto leggendo in chat una domanda di Gregorio Ciancimino che è un nostro assiduo scrittore attentissimo e fa sempre delle domande pertinenti esatto con la globalizzazione di interdipendenza in relazione dei confini territoriali dopo la crisi del Twin Tower la crisi del 2008 la pandemia oggi è diventata globale anche l'insicurezza cosa ci porterà questa vulnerabilità paure verità distorse dominio anarchia dell'informazione caro Gregorio questo è il tema dell'ultimo incontro che faremo sull'informazione perché sull'informazione effettivamente siamo in un periodo di verità distorte dominio anarchia e quindi questo è sicuramente uno degli effetti di ciò delle cose che stiamo vivendo che stavo dicendo e ne approfondiremo sicuramente il tema perché faremo una lezione dedicata al tema di informazione il capitalismo ancora la risposta globale alla società economiche e questo è tutto da vedersi perché su questo c'è un grande dibattito anche di questo parleremo adesso vediamo di riprendere questa volta per fortuna vedo le mie belle foto però anche voi si 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 vedono ok vediamo se riesco anche a mettere la finestrella eccolo là ci sono benissimo ecco e qui siamo e qui siamo al discorso che diciamo prima della della delocalizzazione di cui abbiamo parlato abbondantemente ma le delocalizzazioni produttive che hanno caratterizzato la globalizzazione a partire degli anni 90 prima la Cina è stato il primo grande il primo grande mercato diciamo di 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 creazione di industria delocalizzate poi sono arrivati altri la Cina per l'Europa per gli Stati Uniti poi il Messico per gli Stati Uniti e poi man mano tanti altri paesi asiatici per quello che riguarda l'Europa i paesi dell'est la Romania la Bulgaria l'Albania c'è paesi la Polonia paesi nei quali appunto si andava a produrre per avere dei costi minori rispetto al costo locale e poi si importava la merce questa fase si può considerare conclusa praticamente c'è oggi nessuno non si fa più questo questo lavoro perché il costo della mano d'opera in quei paesi è aumentata cioè quando si è cominciato a delocalizzare in Cina il costo di un operaio cinese era sui 150 dollari al mese oggi siamo già quasi vicino agli 800 dollari quindi oggi chi va in Cina o chi va in India non va a produrre per porri rimportare in Europa ma va a produrre per quei mercati perché nel frattempo quei paesi hanno avuto una crescita molto importante nel mercato interno poi c'è stato un altro fenomeno che è quello della divisione internazionale del lavoro diciamo per usare termini classici nel senso che ci sono state delle specializzazioni e certe cose si fanno soltanto in certi luoghi cioè il tessile si fa quasi tutto tra la Cina l'India il Bangladesh il Pakistan l'industria elettronica è quasi tutta fatta in Cina e lo sappiamo tutte le apparecchiette che abbiamo noi sono fatte in Cina ma non soltanto quelle a basso costo anche l'iPhone di punta dei telefonini piuttosto che i computer più avanzati si fanno anche quelli in Cina ecco ognuno ha diciamo si è specializzato ha avuto un mercato interno e quindi oggi diciamo che quel periodo della delocalizzazione si può considerare in qualche modo chiuso ecco come è stato accompagnato torniamo un po' alla domanda che veniva fatta prima come è stata accompagnata questa evoluzione è stata creata accompagnata anche da qualche istituzione nuova come questa che vediamo la bandiera il WTO l'Organizzazione Mondiale del Comercio che ha sede in Svizzera che non è un ente dell'ONU non confondiamo Nazioni Unite con il WTO il WTO è un'associazione di stati non tutti ma quasi tutti i paesi del mondo è un grande tribunale mondiale per quello che riguarda il commercio si stabiliscono regole valide per tutto il mondo e se un paese che aderisce al WTO viola una di quelle regole la persona l'industria l'impresa che si sente penalizzata può fare ricorso al WTO per avere un risarcimento o perché vengano eliminate quelle distorsioni può essere un'impresa può essere un paese infatti il WTO delle volte giudica anche stati che fanno delle politiche che penalizzano qualcun altro il WTO dicevo è un meccanismo che si si configura così come adesso in realtà era precedente ma con un'altra configurazione che diventa il WTO o in quel momento di euforia dei primi anni 90 con la globalizzazione e si basava sull'ottimismo e sulla fiducia che appunto la storia fosse finita cioè che il mercato avesse trionfato che tutti la pensassero allo stesso modo e quindi che tutti potessero risolvere i loro contenziosi in modo diciamo negoziato e è così ottimista il WTO che addirittura per prendere una decisione la deve prendere all'unanimità voi pensate quanto erano ottimisti negli anni 90 di credere che un organismo con 170 paesi possa prendere una decisione in unanimità infatti GUTTIO per molti versi è un organismo totalmente bloccato perché perché andando avanti nel tempo e venendo di più verso i nostri tempi sono stati introdotti nei rapporti commerciali e mondiali molti dei trucchi e trucchetti che si facevano in passato per tutelare il proprio paese il proprio mercato una delle ultime guerre commerciali che abbiamo avuto e che in teoria è ancora in corso è stata quella tentata da Donald Trump contro la Cina cioè Donald Trump aveva identificato nella Cina una delle cause dei mali degli Stati Uniti perché l'industria se n'era andata di là facendo perdere posti di lavoro e poi perché la Cina utilizza dei mezzi non sempre trasparenti e questo è vero cioè la Cina ad esempio è un paese che gioca sul cambio avendo una moneta che non è quotata e quindi viene abbassata o alzata artificialmente la Cina è un paese che ha fortissimi incentivi di Stato nascosti alle imprese che sarebbero vietati in Europa ad esempio sono vietatissimi le sovvenzioni di uno Stato verso le proprie industrie e la Cina ad esempio come lo fa indirettamente lo fa praticamente regalando l'energia cioè l'energia che serve per muovere le fabbriche lo ha fatto chiudendo un occhio sull'impatto ambientale cioè non imponendo delle regole perché le imprese devono lavorare in un modo sostenibile e quindi sostanzialmente tutte quelle azioni della Cina sulla moneta sull'ambiente sull'energia e sulla mano d'opera sono state politiche che hanno portato nel tempo a tenere molto basso il costo di produzione cinesi Donald Trump ha fatto una guerra contro queste cose ma cosa si è scoperto con questa guerra guerra dei dazzi tra Stati Uniti e Cina è che l'economia mondiale oggi è così complessa e così distribuita nel mondo che praticamente se tu fai un ritorno al protezionismo cioè tenti di produrre ciò che consumi nel tuo paese favorendo le tue imprese non ce la fai non ce la fai perché nessuno produce tutto ciò che serve faccio un esempio concreto l'elettronica sviluppata dalla Silicon Valley cioè quel luogo in California dove ci sono le grandi aziende i tech viene poi tutta prodotta in Cina se la Cina non li produce più o tu non li fai vendere più quelle merce che si fanno in Cina negli Stati Uniti non c'è nessuna industria in grado di produrre i telefonini piuttosto che le macchine fotografiche piuttosto che i computer ma anche l'agricoltura perché quello che gli Stati Uniti hanno scoperto è che è vero che i prodotti industriali cinesi sono imbattibili sul mercato americano ma non avevano capito forse bene che la Cina che ha avuto un passaggio di quasi 500 milioni di persone 500 milioni di persone cioè l'equivalente della popolazione europea dalle campagne alle città cioè da fare i contadini a fare gli operai è un paese che da molti anni non produce più gli alimenti che consumano la Cina era autosufficiente dal punto di vista alimentare fino agli anni 70-80 oggi non più quindi cosa vuol dire che la Cina compra grandissime quantità di alimento in giro per il mondo comprese gli Stati Uniti infatti quando gli Stati Uniti hanno messo i dazzi sull'import cinese i cinesi hanno fatto come ritorsione non hanno comprato la soia il grano il mais che compravano gli Stati Uniti creando un disastro per l'agricoltura statunitense quindi in realtà a conti fatti l'ha vinto la Cina nel senso che i danni economici della guerra di Trump sono stati superiori per gli Stati Uniti rispetto ai cinesi ma al di là di quello si è proprio abbiamo visualizzato il fatto di come oggi sia quasi impossibile pensare in termini autarchici cioè l'autarchia che era un qualcosa in Italia abbiamo conosciuto come Mussolini cioè la pretesa di essere autosufficiente in questo mondo praticamente non è più a portata di quasi nessuno nemmeno dei grandissimi paesi come la Cina o come gli Stati Uniti stessi e un po' l'abbiamo capito anche noi con la pandemia quando è cominciata la pandemia cosa è che non c'era non c'erano le mascherine non c'era il gel per le mani non c'erano le tute usa e getta per gli ospedali c'è mancano tutte quelle cose perché perché tutte quelle cose le facevano soltanto i cinesi e se in Cina la pandemia era iniziata prima in quel momento lì loro non stavano sportandole più perché le stavano usando in Cina e quindi questa grande corsa che c'è stata ad esempio in Italia che a un certo punto nel mese di marzo aprile tutti si sono messi a fare le mascherine la Fiat si è messa a fare le mascherine la Ferrari si è messa a fare le mascherine l'altro faceva il gel l'altro faceva cioè a improvvisarsi o a diciamo utilizzare catene di valore altissime pensate la Ferrari la catena di valore la Ferrari per fare le mascherine che è un prodotto che vale 10 centesimi al costo o 5 centesimi al costo quindi ecco questo è un po' la pandemia ce l'ha fatto capire chiaramente oggi l'economia si è distribuita in tutto il mondo cioè siamo un sistema è come un organismo umano l'economia oggi è come un organismo umano ha una testa ha un cuore ha le gambe ha gli organi tutti distribuiti in posti diversi e quindi nessuno nessun stato da solo riesce a controllarlo anche se ci sono ovviamente delle 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 realtà che in qualche modo lo riscono a cavalcare questo adesso un po' lo vedremo un altro fenomeno che nasce con la delocalizzazione in questi anni è quello della è quello della tentativo di creare grande zone di aggregazione economica questo è il NAFTA che adesso non si chiama più NAFTA perché Trump l'ha cambiato il nome è stato un primo grande accordo di questo tipo c'è il mercato comune del Nord America i tre paesi nordamericani il Messico che è un paese nordamericano mi raccomando la geografia fisica perché i giornalisti lo sbagliano sempre cioè il Messico non è Sud America il Messico è Nord America insieme agli Stati Uniti e il Canada hanno creato questa grande zona di commercio l'Unione Europea ancora prima non è soltanto quello ma è anche una grande area di libero scambio ciò che produco in Italia lo vendo in Germania o lo vendo in Spagna senza pagare nessun tipo di dazio circolano la differenza con il nafta è che in Europa circolano anche le persone non c'è il passaporto io posso andare a vivere in qualsiasi paese comunitario e ho gli stessi diritti degli altri negli Stati Uniti Messico e Canada circolano le merci ma come ben sappiamo non circolano le persone anzi un altro diciamo cavallo di battaglia di Trump è stato il famoso muro per dividere gli Stati Uniti del Messico cioè per il Messico il primo partner economico sono gli Stati Uniti e per gli Stati Uniti il secondo partner economico è il Messico ma i due paesi sono divisi fisicamente da una barriera alta 3 metri e controllata a vista dall'esercito un altro esempio di questo tipo era il mercato che dovevano costruire che aveva programmato Barack Obama il grande mercato del Pacifico cioè gli Stati Uniti con le potenze del Pacifico il Giappone l'Australia l'Indonesia la Thailandia anche i paesi della costa pacifica d'America il Messico il Peru e che doveva essere un mercato diciamo che lasciava fuori la Cina Donald Trump uscirà da questo trattato e un mese fa quel trattato è stato firmato dagli stessi paesi che dovevano firmare con gli Stati Uniti ma con la Cina quindi l'Africa invece ha creato dal primo gennaio di quest'anno quindi siamo a due mesi di distanza un mese e mezzo di distanza ha creato il più grande mercato al mondo praticamente la stampa mondiale non ne ha parlato un mercato per la circolazione delle merci tra 54 dei 55 paesi africani l'unico paese rimasto fuori è l'Eritrea e quindi oggi l'Africa sta andando verso un'integrazione dove chi produce in Sudafrica può trasportare in Nigeria chi produce in Nigeria può trasportare in Algeria e tutto senza gli ostacoli senza le dogane senza i dazi che sono uno dei principali problemi per la circolazione delle merci in Africa tutto questo è stato possibile è stato possibile dalla rivoluzione prodotta da internet qua stiamo vedendo un ufficio sono immagini della global della industrializzazione cinese pensate ad esempio il tema dei call center cioè i call center sono diventati centrali della nostra vita purtroppo tutti lo sappiamo chiami la telecom o chiami chi ti pare e ti risponde il disco di GT1 di GT4 di GT5 a un certo punto ti dice la sua risposta l'operatrice risponderà dall'Italia piuttosto che dall'Alvania o dalla Cina ecco per l'Italia diciamo che sono piuttosto nei dintorni ma questo nasce ad esempio con i call center in oriente e nei paesi di lingua inglese cioè i call center in India o in Pakistan che facevano i call center per la Gran Bretagna e per gli Stati Uniti approfittando del fuso orario quindi mentre era di notte negli Stati Uniti per i call center era di giorno e viceversa e quindi il cliente della compagnia telefonica britannica che chiamava il call center perché non funzionava la linea e gli rispondeva un signore dall'India grazie appunto a internet quindi in realtà ci sono anche dei nuovi lavori che sono questi lavori globali cioè io sto in un paese ma sto prestando un servizio per una comunità per un mercato che è lontanissimo dal mio anche in questo caso ma non sempre c'è un discorso economico ovviamente questa manodopera costa meno costa meno di altri ma questo è sempre di meno quello che è la novità emergente di questo nuovo mondo globalizzato è una rivoluzione come non era mai successa nel mondo del lavoro cioè il lavoro il mondo del lavoro ha conosciuto diverse tappe da diciamo dai servi della gleva medievali fino agli schiavi fino a il feudalesimo e poi fino alla rivoluzione industriale che coincideva con la nascita dei sindacati e con l'inizio dei diritti che hanno portato a diciamo a garantire il lavoratore come non è mai successo nella storia quel periodo è durato quasi 70 80 90 anni oggi invece la figura emergente del mondo del lavoro non è più il lavoratore garantito ma il lavoratore precario cioè la persona che nella sua vita cambierà più lavori anche tanti lavori a differenza di prima che non so a 20 anni tu riuscivi a entrare alla Fiat a Torino e sapevi matematicamente che saresti andato in pensione a 60 anni lavorando alla Fiat di Torino per non parlare dell'impiego pubblico che forse è l'unica categoria ancora che può fare quel tipo di conto dicevo oggi il lavoratore di oggi soprattutto i giovani sanno che faranno molti lavori nella loro vita che non potranno rifiutare nessuno che dovranno fare anche lavori diciamo inferiori rispetto al livello di studi che hanno e soprattutto che non potranno programmare un granché perché questo tipo di lavoro che offre il mercato di oggi è un lavoro che oggi c'è e domani si vedrà quindi lì diciamo tutta la fioritura di contrattualistiche del mondo del lavoro a partire degli anni 2000 in Italia abbiamo 48 tipologie di contratti di lavoro addirittura il lavoro ha chiamata cioè io sto a casa e quando ha bisogno di me mi mandano un messaggino si presenti tra due ore io mollo tutto mi presento e so che lavoro per quelle otto ore quindi abbiamo di ogni tipo di tipologia di lavoro ma la caratteristica del precariato precariato in che senso? che questo fa cambiare anche la famiglia nel senso che non avere una proiezione del tempo certa su diciamo uno stipendio garantito lungo il tempo e ha creato dei cambiamenti anche culturali nelle coppie nel progetto di fare un figlio nell'acquisto di una casa oggi si è molto più movili anche geograficamente cioè oggi spesso si va a cercare il lavoro altrove perché il lavoro ormai non ti arriva più devi dare proprio a cercarlo e questo lo vediamo chiaramente se andiamo a vedere le statistiche dell'ISTAT che è l'ente di statistica italiana ufficiale quindi sono i dati inopinabili che ci sta raccontando almeno da cinque anni che l'Italia per la prima volta nella sua storia da cinque anni a questa parte è tornato ad avere un saldo migratorio negativo cioè negli ultimi cinque anni siamo tornati come nell'ottocento come fino a 1950 sono di più le persone che va gli italiani che vanno a lavorare all'estero rispetto alle persone che vengono a lavorare in Italia e questo sarebbe meriterebbe una lezione che noi non faremo in questo ciclo e che vi assicuro è molto interessante quella che riguarda i luoghi comuni e la falsa informazione visto il tema dell'informazione cioè l'idea di essere sotto assedio migratorio che è un'idea sulla quale qualcuno costruisce anche carriere politiche che non ha nessun tipo di raffronto con la statistica cioè l'Italia da almeno sei sette anni ha avuto uno stop di flussi migratori chiariamoci le persone che scappano dalla Libia con barconi non sono flussi migratori sono flussi di profughi limitati a qualche centenario di persone che tendenzialmente non hanno la minima intenzione di fermarsi in Italia ma flusso migratorio è la persona che dal Bangladesh o dal Perù o dal Marocco viene a lavorare in Italia regolarmente o soffrendo una sanatoria sono 5 milioni di persone in questa condizione in Italia che sono inserite nel mondo del lavoro quel tipo di migrazione si è fermata perché perché il mercato del lavoro italiano non offre lavoro e da quando il mondo esiste nessuno emigra volontariamente in un posto dove non ha praticamente garanzia di trovare un lavoro vai altrove o te ne stai a casa tua infatti negli ultimi anni i numeri di migrazione per quello di migrazione che abbiamo in Italia riguarda soprattutto il ricongiungimento familiare c'è gente che è venuta maschi o donne che sono venute a lavorare in Italia hanno trovato un lavoro magari hanno avuto una casa e a quel punto arrivano la moglie o arrivano i mariti o arrivano i figli e quindi se voi andate a vedere i dati dell'Istat vedrete che attualmente sono di più gli italiani che se ne vanno in altri paesi europei e anche altrove parliamo di 300 mila all'anno in questo momento che stanno uscendo dall'Italia a cercare lavoro di questi qua metà sono laureati e metà non sono laureati quindi più o meno non c'è un po' di tutto rispetto ai flussi migratori e questo perché perché per un ragazzo italiano oggi che sa che il suo destino è quello della precarietà a quel punto se l'occasione è buona va in Francia o va in Germania o va non è l'immigrazione dell'Ottocento la fuga per fame nelle Americhe è un'altra cosa sono ragazzi di un alto livello formativo che trovano buone possibilità di lavoro e li sfruttano sapendo che appunto magari durerà tre, quattro, cinque anni e poi la musica cambierà anche perché appunto diciamo le nicchie di mercato che continuano ad assorbire manodopera in Italia in questo momento sono queste cioè il grande lavoro emergente di questi ultimi anni è il cosiddetto delivery cioè la consegna a domicilio c'è le persone che ci portano a casa il pacco di Amazon piuttosto che la pizza piuttosto che la spesa dell'esse lunga c'è questo che è un lavoro sottopagato senza regole adesso si comincia a creare qualche regola per questi ragazzi che non offre nessuna prospettiva praticamente un lavoro aggiornata ed è questo che sta offrendo il mercato ma questo ovviamente non è un problema soltanto italiano anche se particolarmente italiano qui dicevo queste dinamiche queste dinamiche dell'economia del mercato globale stanno incidendo anche nella cultura dei paesi e stanno anche modellando il futuro ad esempio il futuro demografico perché appunto la procreazione in queste circostanze diventa molto più pericolosa molto più pericolosa tra virgolette molto più a rischio diciamo rispetto al passato e ci sono invece i settori che hanno fatto come si suol dire il botto con la globalizzazione anzi quelli che hanno anticipato la globalizzazione quelle che hanno concepito il mondo con un mercato globale quando ancora non lo era quelle che hanno praticato la globalizzazione ancora ai tempi della guerra fredda uno di questi settori è sempre la criminalità organizzata e in particolare il narcotrafico cioè il narcotrafico offre la merce illegale più con più valore al mondo il prezzo così alto di questa merce della droga è dato da cosa? dal proibizionismo cioè il fatto che sono illegali quindi essendo illegale ed essendo molto rischioso produrle e commercializzarli ed essendo anche molto complicato poter far arrivare quella merce al consumatore finale il prodotto costa moltissimo e in genere ha dei guadagni giganteschi il narcotrafico è uno dei settori e questo forse è l'antesignano c'è stato il primo questo è Pablo Scovar è morto ammazzato qualche anno fa è stato il primo narcotraficante che concepì il mondo come un grande mercato lui comprava la materia prima c'è la pasta della coca la pasta base dai boliviani perché all'epoca non si coltivava la coca in Colombia la raffinava in Colombia e poi lui riusciva a farla entrare nel mercato statunitense quindi aveva la sua piccola triangolazione che portò a una grande fortuna e dopo di lui tanti altri appunto sfruttando questi circuiti perché della globalizzazione innanzitutto perché appunto era merce di un paese trasformata in un altro e venduta ancora in un altro ma soprattutto perché i soldi guadagnati con questo traffico venivano poi depositati in questi posti da sogno che sono i cosiddetti paradisi fiscali che sono le isole del tesoro dei pirati sono tra l'altro le stesse isole del tesoro dei pirati dell'epoca dei pirati dei Caraibi nel Cinquecento Aruba le isole le isole Caiman c'è questi posti che conosciamo tutti dalla Panama dalla fama che si sono fatti c'è sono i forzieri dove i soldi di queste persone sono accumulati in sicurezza sfuggendo alla tassazione sfuggendo al fisco sfuggendo a tutto ma la cosa più incredibile che in questi luoghi in questi paradisi fiscali non si accumula soltanto i soldi del crimine o i soldi dell'evasione fiscale ma anche i soldi di coloro che hanno inventato i grandi marchi e questo è uno dei fenomeni più incredibili della globalizzazione non tanto la Nike la Nike che stiamo vedendo adesso è uno dei primi marchi globali con quel segnetto lì che sta diventato famosissimo e la Nike è stata la prima grande azienda a delocalizzare loro facevano le loro scarpe da 150 dollari al pubblico li fabbricavano a un costo di 10 dollari in Cina e quindi i gruppi che hanno fatto grande differenza ma sono soprattutto le aziende dell'iTech McDonald's è un franchise c'è una un American way of life c'è un modello culturale gastronomica stuttunitense che è diventato una delle più grandi catene mondiale nel settore della ristorazione veloce ma dicevo più di questi qua in realtà coloro che hanno accumulato di più sono le imprese come diciamo prima che in realtà non producono nulla perché McDonald's ti dà l'hamburger la Nike ti dà le scarpe ma cosa ci dà Zuckerberg con Facebook cosa ci dà di concreto cosa tocchiamo con mano nulla ci dà soltanto un posto dove sfogarci o dove scrivere quello che pensiamo o di raccontare cosa facciamo nel lavoro o di andare a curiosare la vita dei famosi cioè ci vende un'illusione sostanzialmente ci vende qualcosa di materiale non soltanto lui ma queste imprese che man mano sono diventate così globali Coca Cola ha inventato il Natale che conosciamo tutti c'è quello di oggi il Natale 70 anni fa non era il Natale della Coca Cola non era questo personaggio col pancione con la barba bianca a vestito di rosso che non è mai esistito nella tradizione del Natale finché l'hanno inventato loro quindi questi marchi hanno fatto cultura non soltanto dei consumi ma hanno anche modificato il senso di manifestazioni culturali molto radicate c'è oggi per i ragazzi il Natale è la festa dei regali la festa dell'albero di Natale e non ha più il significato religioso che storicamente ha avuto visto che il Natale è una festività religiosa quindi il Natale dei consumi si può festeggiare ovunque si può festeggiare in Kencina o in un paese musulmano dove non sono affatto cristiani così come altre festività che ci sono state imposte dalla cultura di massa degli ultimi tempi chi mai ha saputo cosa fosse Halloween fino a vent'anni fa adesso abbiamo i bambini che corrono a cercare caramelle di notte su una festa che è un'antica tradizione celtica ma che non c'entra nulla con quello che vediamo noi oggi o San Valentino e la festa degli innamorati cioè sono tutte operazioni dei grandi marchi per rendere delle tradizioni culturali diciamo atte a vendere di più delle merce che vendono loro che siano cioccolatini o biancheria rossa per San Valentino che siano le caramelle per Halloween o che sia la Coca Cola per il Natale cioè in realtà quelli che sono andati e hanno il malloppo in quelle isole del tesoro sono questi signori qua che sono quelli che ci hanno permesso di collegarci oppure quelli che attualmente ci stanno consegnando le cose parliamo di Amazon ad esempio il grande gigante mondiale della logistica non produce nulla ma loro ti fanno arrivare a casa qualsiasi cosa tu ti possa immaginare e operano ovviamente in tutto il mondo qual è stata l'ingrande invenzione di questi gruppi anzi la grande intuizione quella di dematerializzarsi dal punto di vista fiscale cioè sostanzialmente questi gruppi hanno inventato un trucchetto che è quello di fissare una sede in un posto una sede una sede legale ad esempio in Irlanda che diciamo gestisce del marchio di un'altra sede che sta a monte in un paradiso fiscale quindi quando Amazon ci vende qualcosa in Italia o quando Microsoft ci vende qualcosa in Italia quando l'Apple ci vende un telefonino in Italia cosa succede? Le tasse sul guadagno che hanno fatto su questo vengono girate alla succursale irlandese che in base a un accordo praticamente non prende nulla che a sua volta lo gira la società nelle caima quindi questo gioco qualcuno la fa passare anche dall'Olanda questo gioco delle tre tavolette vuol dire sostanzialmente che questi gruppi in media hanno una tassazione sui loro utili di un punto un punto e mezzo due punti volendo proprio esagerare quindi vuol dire che se io ho un lavoratorio di elettronica ad Arcole e fabbrico artigianalmente un telefonino fermo restando che si possa fare ma mettiamo di sì fabbrico un telefonino e su questo telefonino guadagno 100 euro io alla fine dell'anno pagherò su quei 100 euro 35 euro di tasse allo Stato italiano se invece io mi chiamo appunto proprietario dell'Apl e vendo il telefonino e guadagno in Italia e guadagno 100 euro su quel telefonino alla fine dell'anno avrò pagato se va bene l'1% su quei 100 quindi oggi abbiamo una concorrenza all'incontrario sleale all'incontrario cioè noi quando pensiamo all'evasione fiscale quando sentiamo la problema dell'evasione fiscale cos'è che ci viene in mente l'idraulico che non fa la fattura l'elettricista il dentista che ci si signora se vuole non facciamo la fattura gli faccio al 10% di sconto in realtà l'evasione fiscale oggi che certamente c'è di quel tipo la conosciamo tutti perché quelle proposte il dentista ce le continua a fare la conosciamo tutto è infima rispetto alla grandissima e legalizzata evasione fiscale di questi grandi gruppi cioè gruppi che ci dicono che rendono il mondo migliore che rendono il mondo più democratico che rendono il mondo più aperto ma che vengono a meno alla prima regola del capitalismo che è quello di ridistribuire una parte del tuo guadagno alla tua comunità attraverso la fiscalità è un principio basilare già annunciato da Dan Smith che è un po' diciamo il patriarca del concetto di mercato e di capitalismo alla fine del settecento cioè questi gruppi praticamente non stanno pagando le tasse in su una parte e quindi cosa succede con i soldi sono migliaia di miliardi di dollari accumulati nei paradisi fiscali Donald Trump voleva fare una specie sanatoria perché li facessero rientrare negli Stati Uniti poi non ha potuto farlo quindi i forzieri continuano a gonfiarsi in qualche paese in Europa cominciano ad obbligarli a pagare le tasse nel paese nel quale operano però questo è molto complicato delle volte è molto complicato perché queste imprese ovviamente riescono a giostrare bene adesso abbiamo il caso di Google in questo momento cioè Google è stato obbligato dal governo francese a pagare una parte di diritti ai giornali che poi vengono visualizzati attraverso Google cioè Google non produce notizie ti fa vedere quelle che producono gli altri ma quegli altri non paga nulla mentre invece tu quando sei dentro Google anche se tu non stai pagando niente Google su di te guadagna molto perché poi vende pubblicità di quella pubblicità non va nulla al proprietario dell'articolo che stai facendo vedere quindi in Francia hanno raggiunto un accordo di questo tipo ma ad esempio in Australia non hanno raggiunto un accordo e Google ha minacciato gli australiani di cancellare dal motore di ricerca i giornali australiani in questo momento che non ti indicizi cioè che tu non appaia in una ricerca su Google per un giornale vuol dire la morte perché il grosso dei lettori non è più quello che va in edicola ma il grosso dei lettori è quello che tu trovi su internet quindi sarebbe un colpo mortale quindi è una guerra tuttora in corso infatti questi gruppi sono i gruppi e Benetton è stato un pioniere cioè di questi grandi gruppi che non si capisce se sono venditori di qualcosa o filantropi cioè a vedere le pubblicità di Benetton degli anni 90 ve li ricordate gli United Colors ci hanno martellato per anni su quelle campagne dove si parlava appunto di un mondo dove sono tutti uguali dove il nero il bianco il giallo il verde la natura tutto questo mondo paradisiaco che ci vendeva Benetton e appunto che in realtà è un fabbricante di maglioncini perché alla fine quello che ti vendero i maglioncini però te lo raccontavano cioè se tu compri il maglioncino di Benetton fai parte di questo mondo ideale nel quale eccetera poi la realtà è molto diversa per esempio su Benetton qualche anno fa avevo fatto un'indagine per un giornale loro sono i principali proprietari terrieri della Patagonia in Argentina hanno 3 milioni di ettari dove hanno le pecore che pascolano per la lana per i loro maglioni ma quando hanno comprato quei terreni che non si capisce nemmeno bene come l'hanno comprato gli hanno comprato terreni che includevano dei terreni dell'indigeno della Patagonia che vivevano dentro quindi praticamente hanno comprato delle terre che erano d'altri con questi qua e addirittura molti di questi terreni che non avevano l'acqua all'improvviso sono diventati più ricchi perché qualche fiume è stato deviato per vanare questi terreni condannando alla fuga le persone che erano lì da qualche millennio quindi in realtà questi gruppi hanno una logica pensate Venetone anche il gruppo il gruppo autostrade lo stesso gruppo il ponte Morandi tutto quello che abbiamo visto c'è gruppi per carità sto parlando di Venetton perché lo conosciamo ma gruppi che operano su questa scala e che hanno in modo molto populista creato una retorica dei buoni sentimenti per in definitiva vendere qualcosa e in molti in molti casi come quelli che citavo prima per non pagare nemmeno le tasse questa è una foto diciamo delle due potenze del ventunesimo secolo dopo la guerra fredda che vedeva l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti gli Stati Uniti sono rimasti non sono più potenti come prima ma soprattutto è stata la grande emersione della Cina quindi la grande economia di mercato truccato a partito unico che tra quattro anni avrà un PIL più importante di quello degli Stati Uniti la fabbrica del mondo li chiamano ed è così se la Cina in questo momento scomparisse nel nulla noi avremmo non dico che torniamo all'epoca delle caverne ma avremo qualche anno di seri problemi perché andrebbe ricostruito tutto ciò che è stato abbandonato negli ultimi vent'anni perché appunto perché la Cina ha assorbito una parte importantissima di tutte le lavorazioni industriali sia quelle vecchie che quelle nuove di questo mondo e questo parlando di mondo ha un prezzo per il mondo perché la moderna globalizzazione soprattutto la moderna società di consumi ha una diciamo una fame atroce di spazi dove coltivare dove allevare le materie prime per tenere in piede tutto questa è una scena di deforestazione questo tema lo tocchiamo velocemente perché settimana prossima invece parleremo di ambiente e c'è gli spazi gli spazi che sono man mano stati distrutti per appunto poter rifornire questo sistema mondiale e questa è un'immagine satellitare notturna di un anno e mezzo fa dell'incendio in Amazzonia guardate che che scena che cosa incredibile soprattutto tutta questa zona che è proprio il più fito della foresta amazzonica perché c'è stata quella andata vi ricordate l'anno scorso che bruciava l'Amazzonia attorno all'estate perché e questo è legato a questi due signori qua perché quando il Brasile quando gli Stati Uniti hanno fatto le sanzioni contro la Cina e la Cina come ritorsione non ha comprato la soia statunitense da qualche parte doveva comprarla e quindi è andata a comprarla in Brasile e in Brasile per poter diciamo far fronte a questo aumento della domanda improvvisa si sono andati da fare bruciando milioni di ettari di foresta per poter aumentare appunto le coltivazioni di questo qua che è una delle delle piante che tiene in piede la globalizzazione che è la soia la soia OGM che è un brevetto della Monsanto che attualmente non è più in esclusiva della Monsanto e che è un po' la base della grande agricoltura mondiale perché? perché la soia è una pianta che non è grano ovviamente la luminosa è una pianta con grandissime proprietà dalla soia si può fare combustibile la soia è un alimento anche umano con la soia si fa olio comestibile ma soprattutto con la soia si alimenta benissimo il bestiame infatti i due grandi compratori mondiali di soia in Brasile negli Stati Uniti in Canada in Argentina sono da un lato la Cina perché utilizza la soia per l'olio e per alimentare soprattutto gli allevamenti di maiali e il secondo grande compratore è l'Europa per allevare il bestiame per andare a mangiare il bestiame infatti noi abbiamo il paradosso che gli OGM per l'alimentazione umana in Europa sono vietati ancora mentre invece non sono vietati per gli animali quindi tutta la carne che noi mangiamo europea è stata alimentata tranne quella biologica certificata la carne nel supermercato tutta è stata alimentata con soia transgenica che arriva da questi paesi che faccia male non si sa nessuno ha mai potuto dimostrare che faccia male che invece faccia male la natura questo sicuramente si lo vedremo dopo questo è un esempio di cultura e coltivazione estensiva di soia nei grandi spazi delle pratterie brasiliane bene vediamo una carrellata ad alcuni dei problemi che negli ultimi minuti emergenti con la pandemia il debito pubblico il mondo si è indebitato in questa fase di pandemia gli stati sono indebitati per far fronte alla crisi da un lato per le maggiori spese per quello che riguarda la sanità dall'altro lato ovviamente per i paesi dove è stato fatto per dare i cosiddetti ristori l'Italia è entrata in pandemia con un rapporto PIL debito del 132% attualmente siamo al 162% e le previsioni arrivano al 175% sono numeri da capogiro ma in realtà è una situazione mondiale una situazione mondiale vedete qui abbiamo un po' una mappa del mondo aggiornata al 2015 quindi ben prima la pandemia dove vediamo nelle scale più scure i paesi maggiormente indebitati vedete l'Europa vedete gli Stati Uniti e poi a calare col colore quelli meno indebitati oggi la situazione è molto peggiorata per tutti così come un altro problema per molti paesi è diventato quello della spesa pensionistica cioè il fatto che i sistemi pensionistici sono ancora caricati dalle vecchie politiche cioè le politiche pensionistiche del passato ad esempio quella che permetteva in Italia di andare in pensione con 19 anni se hai messo un giorno di lavoro e sono qualche centinaio di migliaia di persone che hanno quelle pensioni piuttosto di andare in pensione a 50 anni a 55 anni e soprattutto di andare in pensione non in base a quanto si aveva si era versato si aveva versato alle case ma in base allo stipendio percepito cosa che oggi non esiste più oggi sono le pensioni sono nuove sono tutte contributive cioè la mia pensione sarà è tarata in base a quello che hai contribuito non in base a quello che hai guadagnato e nel caso italiano questo è un problema gravissimo perché come vedete rispetto all'Europa all'Europa l'Italia è il paese con la spesa pensionistica più alta più del 15% anzi il 16% del PIL italiano serve a pagare le pensioni e perché è un problema questo? Da un lato perché è tanto ovviamente dall'altro lato perché si è allungato tantissimo la speranza di vita per fortuna e quindi la pensione che una volta era di 10-15 anni tra la fine del lavoro e il passaggio a miglior vita oggi può essere di molti decenni cosa che nessuno prevedeva 30-40 anni fa ovviamente e soprattutto che si è accorciata la massa dei contribuenti perché oggi c'è meno lavoro di prima ma soprattutto perché tornando al tema di prima il precariato c'è tutti questi lavori i lavoretti praticamente non hanno contributi pensionistici o hanno dei contributi pensionistici ridicoli quindi da un lato sono generazioni che non avranno una pensione in futuro ma dall'altro lato per chi è pensionato oggi lo Stato deve mettere la differenza perché chi sta lavorando oggi non riesce a coprire le pensioni in essere quindi un problema molto serio vi dico soltanto un numero in Italia ci sono 16 milioni 250 mila pensionati ma le pensioni erogate sono 23 milioni 198 c'è praticamente ogni tre abitanti in Italia c'è una pensione come potete immaginare questo è un problema non da poco che riguarda che in parte è stato ammortizzato da una categoria recente che è quella di immigrazione perché anche questo polemiche inutili perché è una questione di pura logica cioè se noi abbiamo 5 milioni di stranieri regolari in Italia che lavorano e pagano contributi e queste persone sono a stragrandissima maggioranza in età lavorativa e pochissimi in età pensionistica vuol dire che il 90% degli stranieri che lavorano in Italia in questo momento stanno contribuendo alla propria pensione ma allo stesso tempo stanno contribuendo alle pensioni di chi è pensionato tra 20 anni non sarà così tra 20 anni tanti di loro saranno in pensione in questo momento è così questo che è un dato di logica quando l'ha detto Tito Voeri che era presidente dell'Inps apriti cielo comunque sui lavatori stranieri vedete in Italia qual è la distribuzione 66% nel terziario soprattutto c'è quel 23% in servizi alle famiglie che è notevole perché se voi guardate il comparto servizi alle famiglie che è il secondo partendo dall'alto 3 occupati su 4 sono stranieri cioè servizi alle famiglie cosa vuol dire? badanti colf assistenti c'è quel tipo di figura che conosciamo tutti molto bene quindi in Italia attualmente c'è un welfare parallelo perché gli stranieri non possono essere impiegati pubblici non possono andare a lavorare in ospedale in Italia c'è il vincolo della cittadinanza cioè se tu non sei cittadino italiano non puoi fare l'impiegato pubblico quindi sono tutte le persone che lavorano per le famiglie cioè le badanti che stanno nelle case ad esempio piuttosto che le colf quindi noi attualmente abbiamo un welfare parallelo a quello pubblico che ha più persone di quello che è il personale pubblico che sono appunto più di 600.000 cittadini di altri paesi che lavorano nel servizio delle famiglie facciamo velocemente veniamo a noi ecco la pandemia la pandemia come dicevo non è che abbia cambiato tante cose ma ha accelerato dei processi e ci ha fatto vedere chiaramente delle cose che non vedevamo così in modo chiaro anzitutto la pandemia ha determinato una crisi mondiale dal punto di vista economico cioè il mondo nel 2020 ha perso più di 4 punti di PIL e non capitava dalla seconda guerra mondiale poi c'è chi ha perso di più chi ha perso di meno l'Italia ha perso 8 punti la Cina non ha perso nulla la Cina addirittura ha guadagnato 2 punti gli Stati Uniti hanno perso 4 la media europea è stata di 6 punti di perdita quindi una grande crisi economica una grande crisi occupazionale perché milioni di persone sono rimaste a casa perché i lavori hanno fermi anche da noi pensate tutto il turismo il mondo dello sport gli impiatticistici il teatro il mondo della cultura il cinema che da noi per fortuna c'è la casa integrazione e c'è stato il blocco licenziamenti in altri paesi è voluto dire invece tornare a casa e basta e poi appunto la pandemia in qualche modo ha accentuato alcune distorsioni delle nostre società perché è chiaro che in un mondo chiuso in un mondo nel quale non ti puoi muovere nel mondo nel quale non puoi fare il tuo lavoro chi ha più spazio abitativo chi ha più risparmio chi ha possibilità economica sta molto ma molto meglio di chi non lo ha e il rapporto di quanto stia meglio di chi non lo ha è superiore rispetto al passato alcune categorie hanno pagato un costo molto alto come sappiamo nel mondo della sanità è nato tutto un nuovo business pensate al business attorno ai tamponi ai test e ai vaccini cioè mai nella storia della medicina moderna c'è stato come in questi anni un investimento così massiccio di ricerca e di fondi pubblici e privati sulla ricerca medica legata al vaccino allo sviluppo del vaccino e dei test guardate il PIL degli Stati Uniti qua siamo nella grande recessione qua siamo negli anni 30 guardate il primo semestre dell'anno scorso quindi siamo veramente una crisi che ha soltanto un precedente negli Stati Uniti queste sono le perdite di PIL nel primo semestre del 2020 quando è iniziata la pandemia cioè in quel primo semestre la Spagna è arrivata e il Regno Unito a perdere 22 punti di PIL è qualcosa di incredibile l'Italia del 17 sono numeri che in economia si vedono soltanto nei manuali ovviamente questo è il mondo come dicevamo il mondo lo vedete in arancione meno 3 Unione Europea meno 7,5 nel 2020 e poi l'esplodere delle povertà noi ancora lo vediamo poco perché siamo quasi tutti chiusi ma se avete visto nei telegiornali in questi mesi ad esempio le mense per i poveri a Milano ma anche da noi le Caritas o piuttosto che gli Acli sono esplose le richieste di aiuti da parte delle famiglie magari persone appunto che non hanno avuto accesso agli ammortizzatori o che erano lavoratori precari quindi non hanno ricevuto non hanno potuto avere la casa integrazione c'è stato un grande picco di quello che si chiama la disugualianza questo è un libro di Thomas Piketty un economista e filosofo francese che ha fatto uno studio lo studio più completo sul tema delle disugualianze nella storia e che ovviamente in questi mesi ha parlato molto perché questa crisi ha portato all'assesperazione delle differenze sociali delle sperequazioni sociali cioè l'accumulo di ricchezza in sempre meno mani è un fenomeno ovviamente che ha radici molto più lunghe ma il processo così veloce che c'è stato in questo anno e mezzo è qualcosa di incredibile vedete abbiamo qua qualche dato il patrimonio dei primi dei mille miliardari più ricchi sono tornati a livelli pre-pandemici in nove mesi cioè chi era ricco in nove mesi è tornato al livello di prima della crisi mentre invece nel settore colpite la pandemia gli occupati ripartiti sono 112 milioni di impiego di donne soprattutto in meno anche in Italia avete visto i dati di dicembre in dicembre in Italia sono persi 105 mila posti di lavoro di cui 90 mila soltanto donne ecco dicevamo come così come i ricchi in nove mesi hanno recuperato il loro livello le persone più povere del mondo per riuscire a tornare a come erano prima della pandemia ci vorranno più di dieci anni guardate le differenze sono incredibili Jeff Bezos Jeff Bezos chi è? è il proprietario di Amazon Amazon ha 876 mila dipendenti in tutto il mondo Bezos avrebbe potuto dare a ciascuno dei propri dipendenti un bonus di 105 mila dollari e restare tanto ricco quando era prima la pandemia cioè l'uomo che ha guadagnato di più con la pandemia al mondo è il proprietario di Amazon qui lo vediamo le persone che hanno guadagnato vedete in verde al 18 marzo del 2020 che patrimonio avevano al 16 ottobre del 2020 quindi a distanza di sei mesi del 2020 il capo di Amazon aveva un patrimonio di 113 miliardi all'inizio della pandemia e ancora a metà pandemia era arrivato 192 miliardi Bill Gates da 98 a 118 Zuckerberg Facebook da 54 a 97 praticamente raddoppiato quello della Tesla le macchine elettroniche da 24 a 91 triplicato e Warren Buffett che è un diciamo nel mondo dell'informatica da 67 80 quindi questo è stato il risultato della pandemia nei settori vincenti perché molti settori hanno vinto con la pandemia pensate anche la grande distribuzione alimentaria vedremo i bilanci di S.Lunga di Coop di Carrefour quest'anno hanno lavorato infinitamente più degli anni prima hanno venduto qualsiasi cosa in questo periodo quindi però al di là di questo se vediamo gli Stati Uniti mentre i 643 miliardi statunitensi hanno aumentato di 845 miliardi di loro patrimonio cioè hanno aumentato del 28% del loro patrimonio negli Stati Uniti nel stesso periodo 50 milioni di persone hanno perso il posto di lavoro questo è il mondo col quale dobbiamo fare i conti noi qui in Europa abbiamo uno strumento storico che è il cosiddetto recovery plan che in realtà si chiama next generation EU che sono 750 miliardi di euro che andranno soprattutto che andranno in tutti i paesi europei l'Italia è il paese che avrà la quota maggiore in Italia sono tutti convinti tranne Draghi sicuramente che sono soldi regalati ma ovviamente non lo sono affatto nel senso che una parte di questi soldi meno di un terzo sono soldi che verranno diciamo coperti con un'emissione comune vuol dire che non sono regalati vuol dire che si farà debito comune di cui l'Italia ne risponde per il 27esimo e due terzi di questi soldi sono prestiti all'Italia che andranno ad aumentare il nostro rapporto tra debito e PIL poi vedremo in futuro come sarà perché sono praticamente quasi tutti soldi a debito qui vedete i settori per il governo italiano sono circa 208 miliardi quelli che dovrebbero arrivare su questo si è formato un governo questa è la ripartizione tra i diversi tra i diversi paesi tra il trasferimento e i prestiti vedete che per l'Italia i trasferimenti i grant sono 81 miliardi che è debito comune quindi anche italiano mentre 90 miliardi e del paese che prende di più sono prestiti puri alcuni paesi come guardate ad esempio la Germania non ha preso nulla non ha preso un centesimo di prestiti soltanto la parte dei grant quindi questo ci fa capire come effettivamente la situazione italiana sia sempre quella più complicata infatti le previsioni per il 2020 che sono già confermate anzi in realtà siamo già oltre questa previsione siamo già al 162% e quindi possiamo concludere come Winston Churchill che è stato il primo ministro durante la seconda guerra mondiale che disse sia gli inglesi che ci sarebbero volute lacrime sudore e sangue per uscire dai disastri che provocati dalla seconda guerra mondiale ecco in questo momento questo purtroppo non è molto presente in Italia c'è quest'idea c'è quest'idea appunto di soldi che arriveranno e che si potranno spendere come si vuole e anche questo non è vero assolutamente sono tutti soldi sul progetto ma soprattutto sono soldi a debito per la maggior parte sono soldi a debito vuol dire che non soltanto rimandiamo a un futuro il problema del debito pubblico ma che in questa fase andremo da crescere c'erano alternative probabilmente no io credo che abbia fatto molto bene il governo Conte a negoziare una quota così importante di quei fondi il problema si porrà sicuramente per le prossime generazioni perché possiamo continuare a indebitarci finché vogliamo possiamo continuare a fare tutti i trucchi che vogliamo ma se l'Italia non è un paese in grado di produrre lavoro difficilmente si riesce a uscire da questo loop che è stato un po' il fallimento di quel strumento di welfare che si è voluto vendere come qualcosa che non era parlo del reddito di cittadinanza cioè il reddito di cittadinanza doveva essere semplicemente uno strumento di welfare io ti aiuto perché in questo momento sei male c'è in tutta Europa non c'è niente di male ed è una cosa di civiltà ma invece aver creato la finzione che attraverso i navigator che tra un po' verranno tra l'altro licenziati si poteva inventare il lavoro in qualcosa che fa parte delle fantasie di una certa politica il lavoro non si inventa il lavoro si rende necessario quando c'è qualcuno che investe quando c'è qualcuno che ha una visione del mercato quando c'è qualcuno che è in grado di trasformare l'eccellenza o l'innovazione in cose concrete ecco quindi la sfida è proprio questa per quello che riguarda l'Europa in generale per quello che riguarda l'Italia in particolare che è quella di che futuro vediamo per l'Europa gli Stati Uniti e la Cina abbiamo parlato gli Stati Uniti continuano a essere una grande potenza continuano a essere un grande paese agricolo continuano a essere un grande paese industriale la Cina abbiamo già detto tutto l'Europa cosa vuole fare da grande questo è un grande punto interrogativo speriamo che nei prossimi anni qualcuno riesca a immaginarlo perché è la domanda e la questione che potrebbe cambiare molto le cose vediamo io devo tornare indietro qua sono tornato vado a vedere la chat è sempre Gregorio che aggiunge la forbice della disqualienza sociale e economica aumenterà se cercare di distribuire meglio la ricchezza globale e chi è qui l'avvento un nuovo umanesimo sarebbe bello al momento nessuno Gregorio sta pensando di ridistribuire nulla anzi con la storia dei vaccini stiamo vedendo invece come la tendenza sia il contrario cioè la pandemia scompare se in tutto il mondo scompare invece abbiamo zone del pianeta che in base alla loro potenza economica hanno comprato 4-5 dosi a testa cioè l'Europa ha firmato contratto per 2 miliardi di dosi in Europa siamo a 500 vuol dire che diciamo giocando di fantasia potremmo vaccinarci 4 volte ciascuno di noi gli Stati Uniti hanno fatto più o meno lo stesso mentre invece nessuno sta pensando che molti paesi in altri posti del mondo non hanno le risorse per le vaccinazioni sarebbe molto più utile pensare a vaccinare tutti in Europa e non bloccare 4 volte le dosi disponibili anzi casomai creare diciamo delle agevolazioni perché possano permetterselo anche i paesi più poveri che per fortuna in questo momento stanno usufruendo dei vaccini cinesi e russi che costano molto poco che vengono addirittura regalati bene siamo arrivati a un buon punto se c'è qualche domanda potete farla anche verbalmente in questo momento se qualcuno vuole aprire il microfono faccia la domanda sei stato molto chiaro Alfredo complimenti perché è stata una lezione veramente molto interessante e chiara soprattutto perché sono concetti molto complessi e riuscire a capire e riuscire a capire anche tutto ciò io a nome di tutti i nostri amici dell'università ti ringrazio bene molto grazie 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 a voi per la pazienza soprattutto perché stare due ore su questo mezzo non è da poco noi ci siamo abituati e apprezziamo molto bravi molto bravi quindi noi all'appuntamento allora settimana prossima martedì alle 15 e parleremo di ambiente bene grazie a tutti arrivederci settimana prossima grazie grazie a voi allora invece noi ci vediamo giovedì con il professor Missaglia per la lezione di filosofia e poi venerdì per la nostra professoressa delle stelle come viene Ilaria delle stelle come viene normalmente chiamata bene vi auguro buona serata e a giovedì ciao a tutti ciao grazie buona serata grazie a voi buona serata a tutti ciao ciao ciao